Genitori carissimi, buongiorno! Oggi infratteniamo i nostri bimbi facendo del pane. È una ricetta semplice e veloce. Quello che ci occorre è 400 grammi di farina, 300 di acqua e 5-6 grammi di lievito, quello lievito di birra fresco o altrimenti ancora meno, un 3 grammi di lievito secco. È semplicissimo, non abbiamo bisogno né di planetaria né di roba da cucina e tantomeno ci dobbiamo sforcare le mani. Quindi questo lavoro possono farlo anche i bimbi facilmente. Prendiamo la nostra farina, mettiamo un pizzico di sale e un pizzico di zucchero che aiuta la lievitazione. Una volta che mescoliamo tutto, andiamo ad unire l'acqua dove io ho sciolto il mio lievito di birra, così. Aiutandoci con una forchetta, giriamo... Adesso prendiamo della pellicola, lo copriamo e lo mettiamo in frigorifero. Questa ricetta è bella perché potete farlo, potete prepararla la sera per la mattina o la mattina potete prepararvi l'impasto per farlo poi la sera, come preferite. Quindi lo mettiamo in frigorifero. Quando dobbiamo fare il pane, la tiriamo fuori ed è questo il risultato che otterremo. Come voi vedete, è un impasto molto morbido. E noi andiamo a lavorarlo un pochino con le mani. Ecco qua. Questa è la nostra pagnotta. Adesso noi dobbiamo prendere un contenitore, mettiamo uno strofinaccio, così. Lo riempiamo di farina e mettiamo la nostra pagnotta, così. Adesso la copriamo e deve lievitare a temperatura ambiente un'oretta, un'oretta e mezza. A volte lievitato metteremo la nostra pagnotta nella pentola. La pentola va precedentemente scaldata in forno, bella calda, perché evita che il pane si attacchi. Quindi lo versiamo così. Facciamo Mettiamo il coperchio, anche lui ben caldo e lo mettiamo in forno, 230 gradi per mezz'ora. Dopodiché leviamo il coperchio e lo rimettiamo a 220 gradi per altri 20 minuti. Ecco qua, bimbi. Il pane è pronto. So che a voi piace tanto lavorare la farina. Adesso lo apriamo. Vediamo come è venuto. Ecco qua. Ne tagliamo una bella fetta e lo possiamo condire o con del miele o con della marmellata. Buona merenda, bimbi! Un bacio!